Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi comunico che domenica sarò in diretta su Twitch con una mini 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 maratona. Seguiremo infatti Milan-Atalanta a partire dalle 18 e poi anche Cagliari-Inter a partire dalle 20.45. Salvo cambiamenti di orari delle partite. Quindi seguitemi su Twitch, trovate Twitter e Instagram, tutto nella descrizione di questo video. E poi vi ricordo che siamo vicini ai 7.000 iscritti. Ce la facciamo ad arrivare a 7.000 prima di Milan-Atalanta? Secondo me no, però sorprendetemi e iscrivetevi al canale. Detto questo, Juve-Inter. Io adoro fare i video di Juve-Inter perché so già che prenderò insulti da tutte le parti. Però proverò a darvi la mia chiave di lettura. Non l'ho fatto ieri perché, insomma, la partita è finita tardi. Non avevo lo sbatti, ecco. L'Inter batte la Juve per 4-2 e conquista la sua ottava Coppa Italia. Partiamo con le doverose democristiane premesse. Vittoria meritata dell'Inter? Assolutamente sì. L'Inter e la Juve si sono affrontate per quattro volte quest'anno. Per tre volte l'Inter ha vinto e questo è sintomo di una cosa abbastanza chiara. L'Inter è più forte. Lo ha dimostrato ieri, lo ha dimostrato nel corso della stagione. Lo dimostrano i punti di distacco in classifica. Quindi, poco da dire. L'Inter è più forte. Però, so già dove volete arrivare tutti. So già che volete pungermi lì sulla questione degli episodi arbitrali. Allora, quindi, togliamoci subito gli episodi arbitrali e parliamo poi della partita in maniera seria. Il primo rigore non c'è mai. Il primo rigore è ridicolo. Se danno quel rigore lì contro il Milan, io sto incazzato come una bestia per una settimana. Il secondo è abbastanza netto ed è una minchiata abbastanza grande di Delict. Quindi, il primo rigore per me non c'è mai. Il secondo è netto. E se posso aggiungere una cosa, ci sarebbe anche una mezza espulsione di Brozovic che da ammonito prima di una punizione per la Juve scaraventa la palla fuori. In quei casi gli arbitri solitamente ammoniscono per perdita di tempo. A Brozovic questo non è successo. Ora, questo non vuole essere il discorso è il complotto, lo vedi, bla bla bla, no. No, non è complotto, io a queste minchiate non ci credo. Lo scrivo su Twitter per trollare, però non ci credo. Io credo nella buona fede di tutti. Però esistono le annate in cui le cose ti vanno bene con gli arbitri e le annate in cui le cose ti vanno male. Quest'anno è oggettivo, secondo me. Poi se volete anche smentirmi su questo io mi arrendo. Quest'anno è oggettivo che all'Inter le cose stiano andando bene. Perché poi è inutile che mi venite a dire e alla fine dell'anno gli errori si compensano. Sono cazzate. Perché esistono le annate in cui una squadra è in debito e le annate in cui la squadra è in difetto. L'Inter quest'anno, ragazzi, all'Inter è andato tutto bene obiettivamente. Poi è chiaro, ha avuto anche lei gli episodi sfortunati. Ci mancherebbe. Però se andiamo a vedere il saldo, secondo me è nettamente positivo. Così è. Niente di male succede. È successo anche al Milan nel corso della sua storia. Quindi è inutile che già iniziate perché già so che le cavallette stanno arrivando. Quindi calmi. Non sto... Non ho retro pensieri di alcun tipo. Però è anche ingiusto, secondo me, ridurre la partita di ieri agli errori arbitrali. Che secondo me c'è una grande colpa della Juventus ed in particolare del suo allenatore. Perché ieri la Juventus aveva la possibilità di vincere questa partita e questa possibilità l'ha buttata letteralmente nel water il suo allenatore. Perché? L'Inter parte meglio, va meritatamente in vantaggio un po' alla prima vera occasione con un gran gol di Barella e dopo quel gol la Juve sale di livello, sale il ritmo e inizia a martellare l'Inter. Schioro un gol con Di Bala, chiude meglio, secondo me, complessivamente il primo tempo e poi nella ripresa riesce a ribaltarla. Io per una mezz'oretta ho avuto la sensazione proprio di vedere il remake della gara di ritorno di campionato in cui la Juve obiettivamente giocò molto meglio dell'Inter. E la Juve riesce ad andare avanti, lo fa con merito e io lì ho pensato guarda, vuoi vedere che ce la fanno davvero a sto giro? Cioè era tutto a favore della Juve, aveva l'inerzia dalla sua, l'Inter era confusa, non riusciva a ribattere in maniera, come dire, ordinata ma tutte le sue folate offensive erano frutto di, come dire, sfuriate di Perisic e poco più. Poi cosa succede? Succede che Allegri la butta nel water, letteralmente nel water, inserendo Bonucci e passando alla difesa a tre. Questo cambio è stato la fine della partita della Juventus perché la Juve si tira l'Inter addosso l'Inter da quel momento in poi inizia ad attaccare praticamente a senso unico e poi vabbè la va a pareggiare con il rigore quello inesistente però insomma era da un po' diciamo che l'Inter era lì e continuava a pressare e continuava a mettere pressione alla Juve quindi il gol era anche un po' nell'aria se posso dirlo e la colpa lì è di Allegri perché lì un allenatore deve sapere anche leggere l'inerzia della partita sei la Juve, stai meglio, stai attaccando vedi che la tua squadra è nel mood corretto vedi che ha voglia proprio di attaccare, di offendere, di andare a cercare il terzo perché devi tarpare le ali alla tua squadra facendo il tuo solito cambio difensivo del cazzo perché? perché? io lo stimo Allegri ma ieri l'ha persa lui è innegabile che ieri l'ha persa lui quel cambio lì è follia follia è l'ennesima dimostrazione che Allegri deve un attimo dire non vorrei dire riaggiornarsi ma deve un attimo un po' svegliarsi perché ragazzi ormai è capito stiamo entrando in un'epoca in cui la gestione del vantaggio non puoi farla per 30 minuti cioè tu il vantaggio lo puoi gestire per un quarto d'ora massimo cioè se tu per 30 minuti ti rintani nella tua area il gol te lo fanno è chiaro che te lo fanno il gol poi ovviamente lì salta a tutto perché Allegri a quanto pare prende una pedata da un membro della panchina dell'Inter questa cosa non l'ho visto ho visto Allegri che litigava con tutti si fa anche buttare fuori proprio per chiudere la sua serata meravigliosa e da lì in poi la partita sostanzialmente finisce è vero che si va ai supplementari però ai supplementari saltano completamente tutti gli schemi e saltando gli schemi chi la può vincere la squadra più forte ovviamente è lì la vince l'Inter con pieno merito prima con un rigore a sto gironetto trasformato da Perisic e poi con un altro euro goal di Perisic un giocatore mostruoso io non ho veramente parole per descrivere la stagione che sta facendo quest'anno Ivan Perisic un giocatore di livello veramente superiore ragazzi questa secondo me è stata io ho visto paradossalmente sempre la stessa Inter è una Juve che non è stata proprio in grado di leggere il momento perché poi l'Inter è sempre la stessa cosa cioè l'Inter ha quei allora su 90 minuti ha quei 30 barra 35 minuti in cui proprio ti prende a pallonate cioè loro hanno queste folate all'interno della partita hanno ste fiammate qua in cui ti bombardano se tu riesci a reggere in quei 30 o 35 minuti ce la fai e la porti a casa spesso e volentieri chiaramente se gli concedi campo e in quei minuti là ne vai a prendere uno o due è chiaro che la partita finisce cioè è un po' quello che è successo nei derby no? anche nei derby l'Inter ha avuto quelle fiammate lì che duravano mezz'ora nel derby di ritorno è stato il primo tempo e ci diciamo con il Milan sono riusciti a sfondare soltanto in Coppa Italia in campionato no e infatti noi siamo riusciti a riprenderle entrambe le gare in campionato in Coppa Italia no perché l'Inter è quello ha ste fiammate qua in cui proprio ti bombarda la Juve però le doveva leggere cioè la Juve la doveva leggere meglio sta partita qua cioè io ho sempre apprezzato Allegri proprio per la sua gestione per la sua lettura delle partite no Allegri era proprio il classico allenatore ai suoi tempi proprio che ti incartava la gara con i cambi era l'allenatore che più di ogni altro riusciva proprio a leggere bene i momenti delle partite ieri l'ha persa proprio cioè nel suo campo in quello che è proprio il suo punto di forza ovvero la lettura della gara e del momento della gara ed è effettivamente preoccupante perché che le squadre di Allegri diciamo non fossero diciamo spettacolari da vedere lo sapevamo anche prima però quantomeno erano squadre rognose per per il tipo di lettura che avevano sta Juve qua non ha più neanche quello cioè è proprio una squadra così è una squadra che non è né carne né pesce con un allenatore che non lo so sembra che quest'anno abbia perso la bussola veramente brutta una una brutta finale per la Juve una brutta chiusura di una brutta stagione per la Juve l'Inter conquista il secondo titolo e conferma insomma di essere una squadra che al momento è proprio al top in Italia insieme al Milan è nettamente la migliore secondo me ha qualcosina in più rispetto al Milan e questo insomma deve insomma è doveroso anche sottolinearlo speriamo che si fermino a due che non aggiungano altri trofei per quest'anno però insomma questo sarà argomento per nuovi video ragazzi fatemi sapere qui sotto con un commento che cosa ne pensate se l'avete visto anche voi in questo modo mettete like al video se vi è piaciuto sempre forza Milan anche se oggi non c'entra niente con sto video qua e ci vediamo ad un prossimo video ciao ah ah io speravo di più nella Juve ci mancherebbe però l'obiettivo vero era farli arrivare ai supplementari sono arrivati ai supplementari bene così sono contento a me serviva solo questo ciao